Forza Italia se ne è d'accordo nel salvaguardare di più chi amministra e i governatori in particolare? Sono argomenti molto delicati che non si debbano prestare poi a equivoci. Credo che quello che è accaduto però con il governatore della Liguria faccia veramente riflettere. Questo non deve essere un argomento di valutazione partitica, io credo che il problema esiste ma non se ne è parlato quindi non voglio commentare quello che è un punto di vista di un altro partito. Richiama un po' quello che è la presa d'ufficio sostanzialmente. La presa d'ufficio è stato un provvedimento appoggiato e sostenuto da importanti leader e sindaci del PD e dell'opposizione. Questo ha dimostrazione che alcuni argomenti che riguardano la civiltà giuridica di una democrazia non sono argomenti alla portata solo di una parte politica o di un partito. Quindi anche quell'argomento va valutato. Noi sosteniamo questo, cosa accade se il governatore Todi viene ritenuto innocente? Grave. Quindi sono argomenti molto delicati però non abbiamo discusso nessuna strada che modifichi l'attuale norma.